Chiamo qui Vittorio Canali di ArtPlace. Prego. Grazie a tutti. La nostra start-up ha amiliato il primo network digitale basato sulla tecnologia IPvon e pensato specificamente per l'antimuseale, diciamo per dare voce ai musei. L'applicazione si chiama ArtPlace Museum, ma è già scaricabile gratuitamente negli store, sia in persona iOS che in persona Android, ed è stata selezionata da Team da Telecom Italia per il percorso di accelerazione di Open Innovation in Google Cloud. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di questa tecnologia che, come tradisce, il network fisso AI, è stata lasciata da Apple nel 2013 con una duplice finalità. Da un lato quella di micro-localizzare i device dei utenti in unità del smartphone, con una precisione centimetrica maggiore rispetto al tradizionale GPS. E dall'altro quella di favorire l'interazione proattiva con un'applicazione collegata, quindi un'introduzione del QR code. I beacon non sono orientati da questi piccoli trasmettitori Bluetooth, Low-Cost e Low-Energy, che per la loro un'invasività possono essere tranquillamente installati sia in un ambiente outdoor che in un ambiente indoor. Dal 2013, dall'anno di rilascio, ha avuto due grandi ambiti di impiego. Da un lato l'ambito più commerciale, l'ambito retail, e dal lato l'ambito museale e culturale, con applicazioni interessanti anche nell'ambito delle smart-seam. Come denote il nome della nostra applicazione, ad esclusivo abbiamo leggermente il campo museale. E sostanzialmente cosa facciamo? Grazie alla tecnologia AI-MICOS siamo in grado di trasformare gli smartphone, gli tablet e gli utenti in vere e proprie auto-guide, interattive, multimediali e sempre aggiornate. Proponendo quindi ai musei, in prima valuta, un grande risparmio nel termine di costo per l'acquisto o il noleggio delle tradizionali audio-guide. Dicevo, interattive, multimediali e sempre aggiornate perché? Perché noi proponiamo ai nostri musei, ai nostri clienti, come chiedono queste termine, una licenza d'acquisto, mediante la quale il museo riceve delle credenziali riservate per accedere a un pannello, a una dashboard di back-end, attraverso la quale può gestire e inserire il tempo reale, i contenuti che possono essere testuali e fotografici solamente, ma anche audio e video. Grazie alla collaborazione con il John Mobile Lab del Politecnico Torino, la nostra piattaforma è già anche predisposta per esperienze di realtà aumentata, virtuale e immersiva, che purtroppo però hanno costi notevoli per il museo finale. A che è in volta la nostra tecnologia? Come si può vedere dalla slide precedente, se si vuole trattare indietro, i vantaggi che derivano sono chiaramente in termini di post-it, in termini di visibilità, perché entrando per parte di una piattaforma solita di piccolo booking dei musei, chiaramente un piccolo museo aumenta la propria visibilità online. La cosa molto importante è che attraverso la nostra dashboard il museo può ricevere in tempo reale delle statistiche relative il numero degli utenti dei musei, a quali sale o quali opere sono più apprezzate e addirittura se il museo ha la capacità di installare tre piccoli nella stessa sala per le regole della vecchia triangolazione, si può mappare passo dopo passo lo spostamento dell'utente all'interno del museo, andando a creare delle proprie macchie di calore per capire quali sono gli interessi specifici del museo. Come dicevo, i musei che sono il nostro target sono musei meno piccoli, tenendo con questi un'utenza massima annuale di circa 100.000 utenti, perché ovviamente si tratta di una via a buon posto di accesso al digitale. Come vedete nella slide sto preparando, nonostante la nostra applicazione sia stata lanciata ufficialmente solamente il 31 gennaio, siamo già i piccoli litri del mercato, ma tutti i musei segnati in verde sono i nostri clienti, gli altri segnati in rosso invece sono musei, come il museo Leonardo da Vinci di Milano, come le galleghe dell'Accademia di Venezia, che hanno scelto la strada invece di costruire un'applicazione basata sulla tecnologia Vipo customizzata, cosa ovviamente siamo in grado di fare anche noi in quanto web agency, e infatti stiamo rilasciando tra poche settimane l'applicazione per Palazzo Vincale di Sassuolo, afferente alla Galleria Estense uno dei 20 musei da autonomi creati da Ritormati Narcissimi, e stiamo costruendo l'applicazione di musei civici di Venezia, attualmente i nostri people sono disponibili a Capesaro. Chiudo un breve sfunto sulla proposta di legge che abbiamo studiato in questi giorni, dando uno sfunto, secondo me, che viene trattato, ma che dovrebbe essere naturalmente approfondito, ed è un rapporto molto difficile spesso tra le start-up, la pubblica amministrazione e le smart city. Penso che questo concetto, che è un elemento parodico dilattato, è in realtà un limite, sono una bigliettina vera e propria per le start-up. Parlo, ad esempio, del NEPA, parlo di tutte quelle lacci e laccuoli che non rispettano i tempi di per sé accelerati in una start-up. Grazie. 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 Grazie.